Siamo già a mercoledì, caro Pasquale, ciao! Eh, passano i giorni, siamo già a metà settimana. Siamo a metà settimana, mercoledì, e la prossima puntata noi ci vedremo venerdì in mattinata. Esatto, proviamo ad accompagnarvi nell'ultimo giorno della settimana sin dalla mattina. Dalla mattina, tre puntate, la triade delle puntate dell'intelligenza artificiale spiegata semplice. Questo è Giacinto Fiore, e qui con me Pasquale Viscanti. Com'è andato il video la settimana, il di lunedì? È andato bene, no? Ma devo dire che la diretta continua a darci grandi soddisfazioni, abbiamo aggiunto anche il canale Instagram con Instagram TV, le stiamo sperimentando con voi ragazzi, fateci sapere. Fateci sapere tutto quello che pensate, ma prima, perché ce la chiedete sempre, la nostra cara sigla. Siamo ritornati, siamo ritornati. Anche oggi, tre belle succulente notizie di intelligenza artificiale. Ebbè, oggi passiamo da un posto magico, ma super super interessante, che è il Meet di Boston, per continuare con una sorta di spazio e poi una terza sorpresa. Una sorpresa, ma prima mi raccomando, per poterci seguire, è importante che in qualche modo vi colleghiate a noi. So che in qualche maniera sei arrivato su questa puntata, se l'hai fatto e ci stai ascoltando, insomma, dacci il tuo feedback, ma soprattutto iscriviti se sei su un canale, una piattaforma podcast, oppure vienici a trovare sul gruppo Facebook l'intelligenza artificiale spiegata semplice, oppure vieni su YouTube, insomma, vienici a cercare e continua a seguirci. Ma come mi piace dire, non fare sul serio, perché poi c'è qualcuno che potrebbe prenderla seriamente. Mascua, che dici? Beh, sì, sì, sì. Diciamo che ci limitiamo ai canali social, dai. Ok, allora, io partirei da una notizia di lunedì, della scorsa puntata, in cui avevamo parlato di spazio, un po' di Luca Parmitano, un po' di quello che negli Stati Uniti stanno facendo con questo progetto che ridisegna l'universo e ce lo mostra in 3D. Ma qui invece siamo dall'altra parte del mondo. Beh, sì, diciamo che c'è una sorta di botte e risposta sull'intelligenza artificiale, soprattutto tra USA e Cina. In questo caso passiamo quindi per il continente asiatico e la Cina, che costruirà il primo, la prima costellazione di intelligenza artificiale. Che cosa significa costellazione di intelligenza artificiale? Se lo sono chiesti sabato 29 giugno a questo congresso sull'aerospazio dal titolo Focus sull'universo, che si è tenuto a Chengdu, si è parlato appunto di costellazione di intelligenza artificiale, 192 satelliti in giro per il mondo, lanciati in breve tempo, con la possibilità di poter fornire tele di rilevamento a diverse risoluzioni, no? Esatto, sono 192, hai letto bene, i satelliti che la Cina quindi sta utilizzando per creare appunto questa costellazione, ed è, diciamo, la nostra cara intelligenza artificiale che farà un po' d'accollante tra tutti questi dati. 5 metri, 1 metro e 0,5 sono le risoluzioni dei vari satelliti. Le distanze, insomma, c'è da aspettarsi qui una contromossa degli States, qui si ritorna a guardare dall'alto. Speriamo che ne facciano un buon uso, insomma, come sempre, no? Noi scommettiamo sulla parte etica dell'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale. Esatto, esatto. Ma passiamo velocemente ad un'altra notizia che invece ha a che fare con il mondo della cultura. Perché tu non hai provato a far l'attore in vita tua? Ma devo dire con scarsi risultati. Scarsi risultati. Io mi hanno buttato nella mischia da giovincello nella parrocchia, insomma, i miei risultati non è che siano stati granché. Forse c'è un algoritmo che può dirci se è arrivato il momento del nostro successo. Magari non era quello, Pasquale, il nostro momento. O magari poteva semplicemente già evitarci di fare qualche figura, saperlo prima mi verrebbe da dire. Sì, perché qui c'è di mezzo l'intelligenza artificiale. Siamo a Roma, questa volta, dove hanno dato in pasto tutti i film. Da quando è nato il cinema, sino al 2016, si parla di circa un milione e mezzo di attori e novecentomila attrici che sono state analizzate da questo algoritmo di intelligenza artificiale. Esatto, l'analisi dei dati permette di stabilire quando accadrà l'anno, tra virgolette, più produttivo. Quindi l'anno del boom, l'annus mirabilis, l'annus mirabilis, esatto, che è appunto l'attore che decide di intraprendere questa sua analisi. Riuscirà quindi ad ottenere il successo. Senti, Pasquale, ma se tu provassi ad immaginare chi c'è dall'altro lato delle cuffiette, come te lo immagini questo lui o questa lei? Qual è il motivo per cui si tiene legato a noi? Ma io me lo vedo un po' come noi, me lo vedo un po' come noi, con un'agenda sempre piena ma che coglie sempre l'occasione durante la giornata di informarsi e tenersi aggiornato. Tenersi aggiornato, bene, questo può essere uno dei primi argomenti topic della nostra esperienza, no? Ci aggiorniamo per tenervi aggiornati, no? Beh, selezioniamo di news sul mondo dell'intelligenza artificiale, devo dire che più passano le settimane e più ne troviamo. E più diventa difficile anche districarsi tra le fake news, perché insomma anche qui sapete che c'è l'intelligenza artificiale che scrive articoli, quindi potrebbe scrivere degli articoli su se stessa. Esatto, esatto, esatto e non è una cosa che ci stupirebbe. Esatto, è prendersi il gioco di noi, prendersi il gioco di noi, ma noi crediamo di essere molto attenti, il nostro staff ci riporta sempre e solo notizie belle da fonti autorevoli. Come fonte autorevole è questa, che parla di tatto e di palpastrella, ecco la, tech. Esatto, esatto, direttamente dalla Repubblica, quindi focus sulla tecnologia, che ci viene segnalata questa news, ovvero un ultimo esperimento del MIT di Boston, e qui Giacinto ti assicuro che questi lavorano veramente forte, perché ho avuto il piacere di andare a trovare lo scorso anno, che hanno appunto deliberato questa ultima ricerca, ovvero questo algoritmo che sta insegnando a un robot il tatto e la percezione appunto delle cose. Sì, tra il pool di ricercatori c'è anche un italiano, Antonio Torralba, devo dire che la maggior parte dei ricercatori e dei professori sono cinesi e americani, però è sempre bello vedere un nome italiano in queste belle esperienze. L'obiettivo qual è, Pasquale? Quello di riuscire ad insegnare ad un robot quello che noi riusciamo a fare ormai con molta naturalezza, cioè guardare un oggetto e riuscire a percepirne il tatto, ti capita? Beh sì, se guardo una fiamma cerco di... mi basta guardarla per sapere che magari la mano dovrei evitare... Lì il tatto te lo giochi direttamente, però se tu pensi di toccare un foglio di carta, lo guardi, sai immaginare come sarà il tatto di quel foglio di carta. Un robot, per un robot questa cosa è veramente qualcosa di molto molto complesso. Hanno dato in pasto a questo algoritmo veramente tantissimi video, parliamo di 12.000 a videoclip, 12.000, che uniscono gli accoppiamenti di circa 3 milioni di accoppiamenti tra visivi e tattili. Quindi davano a questo algoritmo un foglio di carta e gli davano l'accoppiamento anche tattile dello stesso, in modo tale che lui potesse percepire la sensazione di toccare un foglio di carta. Ed è venuto fuori questo bel algoritmo che, per quello che dicono al MIT, promette davvero molto bene. Quali potranno essere, secondo te, le applicazioni di questa tecnologia, Pasquale? Ma nell'ambito della robotica ormai si stanno facendo passi da gigante. Mi viene da pensare a tutti i vari dispositivi che ogni anno vengono rilasciati per semplificare anche la vita di tutti i giorni. Quindi avere la possibilità di interagire in un livello così approfondito dei materiali è un grande passo in avanti per tutta questa scienza robotica. Beh, si sta lavorando già su quelle che saranno le prime prove di interazione tra uomo e macchina. Non so se ti è capitato di vedere Pepper in giro da qualche parte. Io l'ho visto il robottino in una nave. Hanno anche provato a dargli la forma delle mani per renderlo più umano. Ed effettivamente il tatto è abbastanza piacevole. Ma in questo momento, da quello che apprendiamo, a lui manca l'esperienza del tatto. Probabilmente lui non sa riconoscere che sta toccando una mano di un essere umano. Su questo stanno facendo dei bei passi avanti con l'aspettativa di vederci sempre più vicini a questi nuovi amici che saranno i nostri robot. Esatto. Tu perché vorresti un robot, Pasquale? Perché cosa? Ma io sicuramente per le faccende di casa, devo esserti sincero, mi sarebbe di grande aiuto. E qui mi viene in mente, mi torna in mente il film del grande Alberto Sordi, dove c'era la robottina che aiutava a fare le faccende domestiche. Bene Pasquale, siamo al termine anche di questa puntata del mercoledì. Ricordiamo a tutti di tenerci sempre commentare le puntate, se ci sono degli spunti, volete darci degli spunti, sono ben accetti. Tu quando è che parti? Fine settimana, venerdì mattina, ultima puntata per me dall'Italia. Ah, bene, allora a questo punto ci vediamo venerdì mattina, tutti quanti. La puntata sarà condivisa come sempre su tutti i canali, sulle vostre applicazioni preferite per l'ascolto del podcast. E come sempre, buona intelligenza artificiale a tutti. Ciao. 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 Ciao.